In provincia di Teramo la ASL ha annunciato che a partire da mercoledì 24 marzo prenderà il via la campagna vaccinale rivolta ai 2400 oltreottantenni allettati, somministrazione che avverrà in maniera domiciliare e per i 2088 disabili per la quale la ASL ha allestito in quattro comuni della provincia, Teramo, Giulianova, Santomero e Atri, punti di somministrazione idonei. La buona notizia è che arrivano oltre 13.000 vaccini che permetteranno un avvio importante a partire da mercoledì. Sì, entro il 24 arriveranno diversi vaccini, arriva il 2200 di Moderna, 9360 fiale della Pfizer e 1600 fiale della AstraZeneca. Quindi ci consentirà, ha iniziato a mercoledì, di poter fare gli ultrottantenni, dobbiamo recarci a domicilio, utilizzeremo quattro squadre, abbiamo fatto attraverso l'ADI, questo rallenterà un po', le operazioni sono un po' lente perché è ovvio che bisogna andare sul posto, fare il vaccino, aspettare l'esito, che il vaccino non comporti conseguenze per il paziente, quindi una mezz'oretta per ogni paziente se ne passa. Dopodiché inizieremo, e questo sono circa 2.400 sul nostro territorio, dopodiché inizieremo a fare anche il 2088 pazienti, articolo 104, questi invece li vaccineremo nei vari presidi ospedalieri e in altre sedi idoneamente individuate per la vaccinazione, sedi vaccinali che dovranno avere delle peculiari caratteristiche vista la fragilità del paziente che dovremo sottoporre al vaccino. Mentre dal punto di vista ospedaliero c'è una stabilità sul fronte dei ricoveri. Ci sono ancora circa 150 ricoverati nelle varie strutture ospedaliere, più 17 nella resta di Bellocchi, ancora sono ricoverati. Preoccupa anche la situazione delle rianimazioni, sono circa 10 ricoverati, di cui 7 a Teramo, 2 a Giuliano e 1 in cardiochirurgia. Quindi ci sono ancora queste situazioni che preoccupano un po', però fino adesso riusciamo a gestirli bene.